Ecco la foto postata sui social che sta facendo impazzire di gioia i beabaldi Prosegue il percorso dei concorrenti nella casa del grande fratello e lunedì 21 ottobre 2024 una nuova puntata del programma andrà come sempre in onda su canale 5 a partire dalle ore 21 e 35 Alfonso Signorini, accompagnato come sempre in studio da Cesare Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli, ci guiderà in quella che si preannuncia una serata ricca di emozioni e colpi di scena Proprio l'opinionista Beatrice Luzzi è diventata virale questa mattina sui social per una foto postata su Instagram L'ex GFino Giuseppe Garibaldi, infatti, ha postato nelle sue storie Instagram la foto che qui sotto vi postiamo insieme all'opinionista del grande fratello accompagnata dalla didascalia Starving negativity, play sports, che si traduce in italiano, affamato di negatività, fai sport Ovviamente la foto è diventata virale sui social, ed ha fatto sognare i Beabaldi, ovvero i fan della coppia nati duramente la loro esperienza nel reality di canale 5 C'è un ritorno di fiamma tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi? Al momento è presto per dirlo, ma ai fan piace sognare Voi che ne pensate dei due insieme? Vi piacciono?